Nel quadrante ionico delle province di Cosenza, Crotone e Catanzaro, a seguito di attività di verifica avviate dal Comando Legione Carabinieri Calabria, d'intesa con il Comando della Regione Carabinieri Forestale, è stata data esecuzione all'operazione denominata DIP3. Tale intervento ha costituito il completamento delle analoghe attività che nel bimestre scorso hanno interessato il settore tirrenico delle province di Vibo Valencia, Catanzaro e Cosenza e in una seconda fase l'intera provincia di Reggio Calabria. Si è caratterizzata per l'accuratezza dei controlli realizzati verso il contrasto di gravi violazioni in materia ambientale. I reati e le violazioni sono tutte in materia ambientale, principalmente quindi illeciti sversamenti, illecito smaltimento di rifiuti solidi, reati e violazioni in materia di lì. Diciamo che questo è stato più che altro un'azione preventiva, naturalmente un controllo massiccio capillare del territorio non può esaurirsi in una sola azione di controllo. Il tema era appunto quello della prevenzione. La peculiarità dell'operazione DIP3 è stata quella di focalizzare l'azione di controllo sulle attività produttive insistenti in prossimità di aree umide, fiumi, torrenti e canali di scolo poste tanto all'interno quanto in prossimità di 250 km di costa centro-settentronale ionica della Regione. Più di 60 gli obiettivi oggetto di controllo. L'intervento è stato particolarmente indirizzato alla prevenzione e al contrasto dell'inquinamento ambientale, mediante azioni utili a conoscere e valutare il fenomeno in ambito regionale e nel contempo valorizzare le funzioni di polizia ambientale affidate in ambito nazionale all'arma dei carabinieri, espresse in particolar modo dalle sue componenti specializzate e dall'intero comparto forestale.